Che sia la volta buona? La domanda è lecita dopo quasi otto anni di lavori frastagliati di stop and go di ogni genere che hanno fatto carta straccia di ogni crono programma ed eragliato ogni piano di finanziamento. Ora però il vecchio Palasport di Viale dei Partigiani intravede l'ultimo miglio per diventare Palas Cavolini. Tre aziende pesaresi si sono infatti aggiudicate i lavori per l'ultimo appalto dedicato principalmente ad impiantistica elettrica, meccanica e al completamento edile. Le ditte pesaresi Zolfanelli e Gambini Mario che assieme alla Impe di Urbania si sono costituite in società d'impresa aggiudicandosi quei lavori conclusivi per i quali 120 ditte avevano presentato manifestazione di interesse al comune di Pesaro. L'investimento conclusivo è di 3 milioni e 560 mila euro coperti quasi interamente da un mutuo acceso con il credito sportivo. Una cifra del tutto simile ai 3 milioni e 6 che nel 2015 erano l'iniziale previsione per la realizzazione dell'opera poi quasi triplicata fino ai 10 milioni attuali fra costi lievitati per adeguamenti sismici e spropositato aumento dei costi dei materiali. Ora qualche settimana per la consegna del cantiere che dovrebbe dare una terza vita ad un luogo iconico della città. Prima tempio del basket degli anni d'oro della Scavolini, poi simbolo di abbandono e di cantiere lumaca e ora un auditorium della musica da 2000 posti.